InfoDrive colma le lacune esistenti riguardanti la prevenzione ed informazione istantanea dei pericoli. Le auto che oggi guidiamo sono tutte costruite in modo da ridurre al minimo le conseguenze di un impatto sui propri occupanti. Questa è la cosiddetta sicurezza passiva, ma non basta. I dati sulla mortalità degli incidenti stradali ce lo confermano. InfoDrive introduce in modo rivoluzionario il concetto di sicurezza attiva, una tempestiva e preventiva informazione che in caso di pericolo consente agli automobilisti di avere tempi utili di reazione e spazi di frenata maggiori per una normale decelerazione, prima ancora che l'incidente possa essere visto. Grazie a questa fondamentale informazione preventiva, la propria sicurezza diventa anche la sicurezza degli altri.